fate presto siamo in ritardo per la ripresa dell'anno scolastico così lucia fortini assessore all'istruzione politiche sociali e giovanili della regione campania che lancia l'allarme sui tempi per la ripartenza siamo a fine giugno e non abbiamo ancora avuto dal ministero le linee guida le scuole di fatto riaprono a fine agosto per il personale docente ci sono appena due mesi per risolvere tutte le criticità tra l'altro occorre provvedere con urgenza alla fornitura di banchi singoli per le nostre aule per garantire il distanziamento dalla commissione istruzione della conferenza delle regioni sono arrivate da giorni sul tavolo del ministero le nostre proposte chiare ed univoche per i parametri per garantire la sicurezza due metri quadri a studente una distanza che consente di stare in aula durante le lezioni senza la mascherina che andrebbe invece sempre indossata per gli spostamenti e soprattutto il potenziamento di organico per il personale atei docenti abbiamo anche presentato un emendamento per ottenere il congelamento per l'anno in corso delle sedi sottodimensionate e garantire così l'autonomia scolastica adesso tocca al ministero all'interno